ciao bimbi vi raccontiamo la storia di una mela chi c'è nella mela guardate un po verdolino e l'inquilino sarà il pranzo del pulcino verdolino furbino si nasconde nel giardino attenzione guardate un po si è tanto spaventato questo mozzo non si è addormentato e adesso oh magia verdolino vola via 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 ciao ciao bimbi ciao bimbi ciao bimbi a presto